Ciao a tutti, ancora oggi ci sono troppe persone che credono che i satelliti siano un qualcosa che fluttui nel vuoto spaziale. Secondo loro non esiste nulla che possa supportare le comunicazioni e i GPS. Mentre tutti credono, nessuno conosce il programma Project Loon. Questo sistema è ad oggi il miglior metodo per lo scambio di comunicazioni e di rilevamento delle posizioni. Oltretutto non è difficile fare delle verifiche e magari seguirne anche il tragitto. Prima di mostrare la quantità impressionante di palloni che sorvolano le nostre teste, un breve video di Eisenhower dove nel 1962 dava il via a questo progetto. Ascoltiamolo e dopo strofinatevi gli occhi e ragionate. Prima di partire col video vi mostro a cosa serve il Project Loon. Progettato per portare l'accesso a internet in regioni remote non servite dall'infrastruttura tradizionale. Bene, qui possiamo vedere il tragitto e quanti palloni aerostatici vengono lanciati quotidianamente. Ma a che cosa servono tutti questi palloni se in orbita ci sono oltre 7000 satelliti? Tutto questo per portare internet nelle regioni remote. Grazie per la visione.